RISING TEAM Al Salone di Ginevra 2018, Citroën presenta in anteprima mondiale Nuovo Berlingo. Un modello che rinnova una vettura che nel 1996 ha dato vita al segmento dei multispazio. Si rinnova per il design, per il comfort e per le tecnologie. In particolare adotta i gruppi ottici luminosi su due livelli, le fiancate ospitano gli airbump, il baule diventa ancora più capiente, il portellone posteriore ospita il lunotto che si può aprire separatamente. Ora è disponibile in due lunghezze, una versione medium da 4,40 metri e una versione extra large da 4,75 metri, entrambe da 5 o 7 posti. All'interno Nuovo Berlingo offre una abitabilità e una modularità eccezionale. Grazie a diversi vani portaoggetti, sono 28 in tutto, e al modu top rinnovato che consente di alloggiare oltre 90 litri di carico. Grazie alla nuova piattaforma è stata migliorata la manovrabilità, sono state ottimizzate le masse, il parabrezza è stato spostato più avanti per garantire un maggiore volume nell'abitacolo. Nuovo Citroen Berlingo dispone di 19 funzioni di assistenza alla guida, 4 tecnologie di connettività e motorizzazioni fino a 130 CV disponibili anche col cambio automatico a 8 rapporti. Accanto a Nuovo Berlingo Citroen presenta la nuova C4 Cactus che si rinnova profondamente ma si distingue per il design e il comfort. Il nuovo frontale presenta l'identità di Citroen con i gruppi ottici su diversi livelli e le luci diurne a LED che sono collegate con gli Chevron. Le fiancate ospitano gli airbump che qui sono ridimensionati e posizionati nella parte bassa delle portiere. Al posteriore i nuovi gruppi ottici a LED effetto 3D e il portellone nello stesso colore della carrozzeria. Ma è soprattutto un riferimento per quanto riguarda il comfort grazie alle sospensioni Citroen con smorzatori idraulici progressivi che garantiscono un effetto tappeto volante per cui sembra di sorvolare le asperità del fondo stradale. Nuova C4 Cactus offre 12 funzioni di assistenza alla guida, 3 tecnologie di connettività e motorizzazioni fino a 130 CV anche con cambio automatico EAT6. Sarà disponibile sul mercato a partire da marzo con i prezzi a partire da 17.900 euro. Accanto a Nuovo Berlingo e a Nuova C4 Cactus Citroen espone la sua best seller C3 qui in una serie speciale realizzata in collaborazione con Elle ispirata al mondo della moda. E infine C3 Aircross, il SUV compatto dalla forte personalità che garantisce protezione, robustezza ma una abitabilità e una modularità di riferimento che ha già riscosso un grande successo dal lancio.